Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono Mariano, oggi vi voglio far vedere come impostare al meglio la fotocamera che abbiamo sempre tra le mani, quella del nostro cellulare. Dicono infatti che la migliore fotocamera è quella che hai quando ne hai bisogno. Immaginiamo di avere un bellissimo tramonto e non avere tutta l'attrezzatura o le cose, ma ho il mio fantastico cellulare, quelli che costano davvero tanto. E poi diciamoci la verità, soprattutto per quanto riguarda l'iPhone, nelle versioni 13, 14, 15, chi ne ha più ne metta, la cosa che cambia davvero sensibilmente è proprio quella della fotocamera, proprio perché è la parte su cui ancora si può fare molto. In questo video condividerò con voi tantissimi suggerimenti per aiutarti a scattare le foto nel migliore dei modi. Attenzione però, disclaimer, io non sono un fotografo, anzi diciamo che sono ben lontano dall'estetulo. Il fotografo è un artista, uno che pensa prima di scattare e scatta per far avere delle emozioni. Io ho un grande amico che si chiama Pierluigi, che è un vero e proprio fotografo e quando ti racconta come scatta davvero ti incanta. Io non lo sono, ti darò soltanto alcuni suggerimenti. Cominciamo e vediamo le prime cose. La prima cosa che ti raccomando è quella della panoramica verticale. Probabilmente sai già che per scattare foto panoramiche impressionanti ci sono alcune cose che potresti conoscere. In primo luogo quando hai la modalità panoramica attivata nella fotocamera puoi toccare la selezione panoramica dal centro dello schermo e cambiare la direzione della freccia. Di default la freccia si sposa da sinistra a destra e però puoi anche farlo fare da destra verso sinistra. Ma una cosa che ti voglio raccomandare e da considerare è quella che per le foto panoramiche non devono essere necessariamente orizzontali. Prova a farlo ad esempio con immagini verticali. Per farlo vai nella modalità panoramica della nostra fotocamera e inizia da una posizione bassa e poi piano piano ti muovi verso l'alto tenendo la fotocamera più stabile possibile. Potrebbe sembrare sciocco ma quando ci sono paesaggi visti e imponenti che ergono un po' sopra di me come enormi edifici cose insomma che voglio mettere in evidenza l'illusione di avere un'altezza impressionante con queste foto scattate in verticale con la panoramica. Altra cosa che ti faccio vedere è come preservare le impostazioni della fotocamera e quindi vediamo come il tuo iPhone ha una funzione estremamente importante per quanto riguarda la fotocamera. Penso che molte persone però non lo sappiano che esiste questo modo per preservare le impostazioni. Ciò che fa questa funzione è ricordare le diverse impostazioni che hai abilitato per diverse parti della fotocamera e assicurarsi che siano impostate in modo che quando poi riapri la fotocamera non hai nessun problema a tornarci. Come si fa? Ecco basta andare su impostazioni poi troviamo la nostra fotocamera le impostazioni della fotocamera e da un certo punto vedi come hai mantieni impostazioni. Qui puoi mantenere le impostazioni della fotocamera come vedi è mantieni l'ultima opzione che hai utilizzato ad esempio video, i controlli ritocchi creativi, il controllo della profondità, il controllo delle macro, la regolazione dell'esposizione, la modalità notte, lo zoom ritratto, live foto e così via. Una volta che tu hai impostato queste impostazioni qui il tuo iPhone si ricorderà per la volta successiva che tu vuoi mantenere queste impostazioni. Altra cosa che ti faccio vedere è come bloccare l'esposizione. Per bloccare l'esposizione bisogna toccare l'area considerata nella composizione fino a quando compare un quadrato giallo con l'icona del sole accanto. Quindi possiamo scorrere su e giù con il dito per aumentare o diminuire l'esposizione secondo le nostre preferenze. L'unico inconveniente è che quando ti sposti il telefono l'esposizione tornerà automaticamente come nella correzione automatica. Ciò significa che dovrai rifare tutto da capo. In realtà però potresti anche bloccarla facendo in modo che attivando il menu scorrendo dal basso verso l'alto nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per accedere alle opzioni aggiuntiva. Cerca l'icona circolare con un simbolo più o meno al suo interno che rappresenta proprio il pulsante di modifica dell'esposizione. Tocca l'icona e poi scorri da sinistra e destra per regolare l'esposizione. In questo modo le tue foto avranno un'esposizione che solo tu desideri. Altra cosa che ti faccio vedere è il timer per delle foto ultra stabili. Se vuoi scattare una fotografia ultra stabile non hai la possibilità di usare un treppiedi. Un trucco che puoi provare è impostare il timer per scattare le foto. Scorri verso l'alto per accedere come al solito ai controlli aggiuntivi nella parte inferiore della fotocamera. Tocca il pulsante timer impostato e poi impostarlo sui tre oppure sui dieci secondi. Premi il pulsante dell'otturatore e vedrai come avrai dai tre ai dieci secondi. In questo modo potrai scegliere anche tu una posa più stabile. Immaginiamo appunto anche per fare delle foto in cui ci sono anche altre persone e così via. Altra cosa molto molto importante è abilitare la griglia ed il livello. Due impostazioni basilari ma che servono davvero molto sul tuo iPhone. Per impostarlo di nuovo andiamo su impostazioni. Come al solito troviamo troviamo la parte della fotocamera che io in questo momento non sto trovando però vediamo un po' mamma mia che somaro eccolo qui fotocamera e guardate come ho la griglia che posso mettere oppure no la griglia oppure l'allineamento orizzontale. Questa è una cosa molto molto importante per te perché la griglia ci dà la possibilità scusate blocco un attimo qui la griglia ci dà la possibilità di avere proprio queste linee verticali ed orizzontali in modo da poter comporre al meglio la nostra fotografia ed inoltre invece il livello serve molto per fare ad esempio delle foto orizzontali nel caso in cui ad esempio voglio fare delle scansioni. È davvero molto molto importante perché vedi queste due croci come quando sono allineati quella bianca e quella gialla sono allineati vuol dire che il tuo telefono è impostato in maniera orizzontale quindi c'è il livello che utilizza l'accelerometro del tuo iPhone per garantire che la fotocamera sia tenuta il più possibile in posizione orizzontale. Altra cosa interessante sulle esposizioni lunghe sappiamo ad esempio che una fotografia a lunga esposizione quando ad esempio si cattura una scena come l'acqua che scorre il fiume di un letto, le onde che infrangono sulla spiaggia, non so anche delle fontane, le auto che passano e così via. La velocità lenta dell'otturatore è ciò che crea l'effetto visivo un po' strano no? L'effetto movimento. I fotografi raggiungono questo utilizzando attrezzature speciali e un treppiedi per mantenere stabile. Il tuo iPhone però può scattare foto a lunga esposizione davvero impressionanti ed è anche abbastanza facile farlo. Per catturare una foto a lunga esposizione devi per prima cosa scattare in live foto e questo lo vedi perché c'è quel puntino in alto a destra dove ti devi assicurare che stai scattando in live foto. Se l'icona è accesa possiamo scattare in live foto quindi fare in modo che la tua fotocamera riprenda per diversi secondi anche dopo che tu hai premuto il pulsante dell'otturatore. Cerca di tenere il telefono più stabile possibile mentre catturi una scena in live foto. Una volta che hai catturato la scena in live foto visualizza la foto nell'applicazione foto nell'angolo in alto a sinistra tocca dove dice live foto cambia in lunga esposizione e così hai catturato una foto a lunga esposizione impressionante con un semplice tocco di un pulsante. Bellissimo! Altra cosa che ti raccomando è la posizione dell'obiettivo. La posizione dell'obiettivo si riferisce a come poter posizionare fisicamente il tuo iPhone. Infatti vedi come il tuo iPhone ha le lenti leggermente posizionato sulla parte superiore del dispositivo. Questo consente di ottenere scatti davvero creativi con angolazioni diverse. Quindi perché scattare sempre in posizione orizzontale oppure in posizione verticale con le camere sempre rivolte verso l'alto possiamo anche farlo scattando verso il basso. Quindi sollevando il telefono dall'alto verso il basso questo può essere utile per dare un aspetto maestoso ad esempio agli oggetti e agli edifici. Oppure potremmo appoggiare il nostro iPhone ad una parete ecco in questo modo qui ci può aiutare ad esempio per avere un po' di profondità, un'angolazione diversa. Esperimenti in posizioni insolite possono portare a risultati fotografici unici e davvero stimolanti. E quindi magari divertiamoci ecco perché a mettere la nostra fotocamera non sempre in verticale ma abituiamoci magari a posizionarla anche in maniera creativa. Altra cosa sono gli scatti in sequenza. L'iPhone consente di catturare rapidamente la sequenza di foto in successione in modalità come si dice in inglese burst mode. Questo è utile per catturare azioni molto veloci e scegliere poi il miglior risultato in una serie di foto. Per attivarlo molto molto semplice devi essere nella modalità foto normale, mi raccomando non funziona in altre modalità, premi e tieni premuto il pulsante dell'otturatore e subito dopo vedi un contatore che indica velocissimamente le foto che hai catturate. E hai anche la riproduzione del suono durante questa sequenza. Quindi il suono emetterà un suono rapido per ogni scatto che viene catturato. Per selezionare lo scatto, magari non vogliamo tenere le turte, ma vogliamo selezionare il migliore dopo che ho catturato una sequenza, puoi visualizzare le foto nella tua galleria, tocca sulla sequenza per visualizzare tutte le foto scorrendo sulle miniature a destra e a sinistra. Puoi toccare su quella che vuoi selezionare, quella che vuoi scegliere, quelle che magari ti piacciono e che ti piacciono di più. Oppure puoi anche cancellarle tutte. In sintesi questo modo è un modo molto semplice per catturare scene in velocità o magari, non so, hai lo scatto dell'uscita degli sposi e vuoi riprenderlo in maniera così creativa, puoi scattare davvero decine di foto. Altra cosa molto importante è imparare qualcosa sulle nostre lenti. È importante conoscere e sfruttare le lenti della nostra fotocamera. E quindi, insomma, possiamo vedere come non solo abbiamo a disposizione lo scatto a 1x. Ecco, ad esempio io sto scattando con un iPhone 13 Pro, ma questo vediamo che va per iPhone anche 14 e così via, 15 eccetera. Abbiamo anche la possibilità del grandangolare, quindi ad esempio lo 05, oppure abbiamo la possibilità del 2x o anche la possibilità del 3x. Questo lo possiamo fare anche sulla videocamera, non solo sulla fotocamera. e possiamo shiftare tra questi, ma non solo, possiamo farlo anche in maniera, diciamo, graduale. Non solo andare 1, 2 o 3, ma possiamo anche farlo in maniera graduale. Va notato che oltre il 3x, per il mio, per la mia ottica, dopo il 3x c'è tutta la parte di digitale, quindi c'è ancora lo zoom, ma quello zoom sarà uno zoom digitale, quindi diciamo è come, diciamo, è una parte software, non è una parte hardware. Ecco, quindi impariamo anche a vedere come il nostro iPhone scatta avendo la possibilità di avere degli zoom ottici. Altra cosa molto molto interessante è la modalità ritratto. La modalità ritratto sfrutta la fotografia computazionale per creare effetti simili, ad esempio all'effetto Boken, tipici proprio delle impostazioni DSLR, che consentono di isolare il soggetto dallo sfondo ed avere una descrizione molto dettagliata della parte all'inizio e tutto sfocato sullo sfondo. Per attivare la modalità ritratto basta premere sulla modalità ritratto nella parte inferiore. Posizioniamo il soggetto in modo che sia chiaramente visibile sullo schermo e poi scattiamo la foto. Possiamo vedere come possiamo anche cambiare. Mentre stai scattando una foto in modalità ritratto è possibile personalizzare premendo l'icona F che consente di regolare l'apertura virtuale controllando la qualità della sfocatore sullo sfondo. Un valore di apertura più basso comporta uno sfondo più sfocato. Ci sono anche tante altre opzioni di illuminazioni e quindi puoi vedere come ci sono altre cose, quindi puoi mettere in bianco e nero, illuminare proprio solo come spot, proprio in maniera molto forte il soggetto e così via. Ti puoi davvero divertire con la modalità ritratto. Altra cosa è che possiamo cambiare il punto di fuoco. Mentre stai scattando in modalità ritratto puoi cambiare il fuoco. Questa funzione consente di modificare qual è l'area in primo piano. Altra cosa che ti raccomando è la modalità notte. Insomma soprattutto ecco mi sembra dall'iPhone forse 12, forse già dall'iPhone 12 c'è la modalità notte che è la modalità che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo proprio di scattare in maniera ottimale. Questa funzione si attiva quando il sensore rileva delle scarse luminosità. Ecco mi raccomando la modalità notte dell'iPhone ti consente proprio di catturare dei dettagli e dei colori in condizioni di scarsa illuminazione davvero fantastici. Però dobbiamo togliere il flash, mentre quando scatti con il flash scatti in maniera innaturale diciamo, soprattutto se hai dei paesaggi e distorci i colori, non preserva l'atmosfera autentica di una scena notturna. Mentre la modalità notte davvero è fantastica. Ecco vedete in questi esempi come ho fatto degli esempi proprio per farti vedere con il flash e senza flash come viene fuori. Con il flash viene tutto un po' sfocato, tutto un po' così anche ovattato eccetera. Mentre con la modalità notte il nostro iPhone fa delle foto davvero fantastiche. Benissimo, io ti ho dato, non mi ricordo, quanti di questi suggerimenti. Scrivi qui nei commenti se già li conoscevi tutti e quali di queste ti è piaciuto, in particolare i quali andrai ad utilizzare. Ora non mi resta che augurarti un buonissimo studio, una vita splendida, un ottimo lavoro. Mi raccomando iscriviti al mio canale, questi sono tutti gli altri miei social e non mi resta che salutarti e dirti alla prossima.